salve ragazzi rufus garage nuovamente con voi in attesa di vendere qualche pezzo e comprare finalmente l'albero a spalle piene per motore malossi mi dedicherò a un nuovo motore tutto usato ma in perfette condizioni allora innanzitutto il cilindro olimpia guardate un po olimpia ma olimpia vecchio stampo ecco l'interno guardate un bel cilindro guardate le unghiate sono quattro vediamo se si vede bene così eccole qui prendo una luce così lo vedete bene eccole qui quattro unghiate allo scarico ampio molto ampio guardate cilindro è perfetto è un diametro 41 questi sono olimpia vecchio stampo sono identici ai dr 41 che venivano fatti una volta questo è il pistone molto bello non ha segni non ha righe non ha nulla l'ho pulito devo pulire ancora meglio qui tra dove si inseriscono le fasce sono in attesa che mi arrivino delle fasce e questo motore renderà bene è un bel motore spinotto 12 monterò un albero motore rms questo ce l'avevo già montato su un altro motore è leggermente anticipato come si può vedere la curva è stata lavorata non da me ma da chi ce l'aveva prima procederemo un bell'alberino spinotto 12 senza bronzina guardate perché qui si mette ora questa è una gabbia a rulli da 10 ma si mette una gabbia a rulli da 12 dove si inserisce lo spinotto per chi non li avesse mai visti gli alberi motore spinotto 12 senza bronzina sono questi qui e utilizzerò dei carter per caso mi sono capitati tra le mani guardate firmati da the great mirelio che saluto io lo seguo volentieri su sul suo canale youtube mirelio è un'istituzione e sono carter guardate lavorati solo negli scivoli non nei travasi anche perché non servirebbe qui perché i travasi di questo motore guardate sono uguali a quelli dall'originale e le unghiate non sono aperte qui quindi non occorre nemmeno lavorare i carter questo sarà un motore che renderà abbastanza questo è stato riverniciato il carter mi fido di mirelio perché lui usa vernice ad alte temperature e procediamo con i lavori ragazzi comincerò ad inserire i cuscinetti nel sull'albero motore e poi man mano che procedo vi aggiorno per oggi vi ho solo presentato i pezzi al prossimo video ragazzi iscrivetevi al canale se volete ciao 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 ciao